Il 7 gennaio appuntamento a Roma con Trenitalia da parte dell'amministrazione francese per discutere della questione della freccia rossa. Due treni dell'alta velocità sostano in sede in città in quanto assalernano via Spazio e quindi potrebbero ripartire proprio dalla stazione battipagliese. Anche il governatore De Luca all'inaugurazione dell'Inps si disse favorevole all'alta velocità con partenza da Battipaglia. Sono due anni che si ragiona, i funzionari di Trenitalia sono venuti a verificare le condizioni, hanno verificato che via lo spazio per far partire almeno un freccia rossa per lunedì prossimo. Si spera in un'approvazione dai vertici nazionali.